Ho finito la birra. Benvenuti. La più grande paura della gente non è morire, è parlare in pubblico. Io mi sento male fisicamente, mi viene da vomitare. E' quello che vuoi fare per vivere. Canardo. Signor Canardo. Primo dito, ma ho fatto. Se può permettersi di vendere roba buona in doppio a metà prezzo. Un'oretta di contenuto. Ezechiele 25-17. Un'oretta di impressione. Giaimè. Chi cazzo è questo? Di vita vera. Ascolta. Zero due. Di attunce. Sono orgogliosi di presentarvi. Ghetto sci. L'album di debutto DJ. Che cazzo d'è? Che cazzo. L'album di debutto DJ. Blue Magic. Ne sai niente? Nessun momento. Puglou. Nessun momento. Puglou.